Musica Sta per concludersi un'altra settimana, dunque andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di domenica 12 maggio ad Avellino. Al mattino pioggia e rovesci anche temporaleschi, in attenzione dal pomeriggio i venti saranno deboli. Ad Ariano al mattino pioggia e rovesci, in attenzione dal pomeriggio. Baiano molto nuvoloso, con piogge e temporali. Lioni, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci, in attenzione dal pomeriggio. A Cervinara, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci, che possono essere anche a carattere temporalesco, in attenzione dal pomeriggio. A Napoli, cieli coperti al mattino, con piogge e rovesci, miglioramento dal pomeriggio. I venti saranno moderati, mare mosso. A Salerno, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge, anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli, mare poco mosso. A Benevento, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci, in attenzione dal pomeriggio. I venti saranno assenti o deboli. A Caserta, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, in attenzione dal pomeriggio. I venti saranno assenti o deboli. Le temperature, Avellino, temperatura massima di 15 gradi, dove gradi la temperatura minima. A Napoli, 18 gradi, la temperatura massima a 13 gradi, la temperatura minima. 18 gradi, anche la temperatura massima a Salerno, 13 gradi, la temperatura minima. A Benevento, la temperatura massima raggiungerà i 17 gradi, la minima i 10 gradi. A Caserta, invece, la temperatura massima potrà raggiungere anche i 21 gradi, mentre la minima sarà di 12 gradi. Ed è tutto per oggi.